Gli uomini della polizia di Stato hanno arrestato sabato pomeriggio seguito di un controllo un ravennato di 64 anni, trovato in possesso di quasi 4 kg di cocaina e la complice moldava di 36 anni. Nell'appartamento dell'uomo a San Pietro in Vincoli sono stati rinvenuti 43.000 euro in contanti che la squadra mobile ritiene provento dell'attività di spaccio. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Ravenna, mentre per la donna quelle del carcere di Forlì. L'operazione nasce dall'intuito dei poliziotti dell'antidroga di Ravenna che hanno visto una faccia nota, una persona pregiudicata che conoscevano da tempo, l'hanno vista uscire da uno stabile che non era quello dove vive. E per di più, essendo affidato ai servizi sociali, non era dove doveva essere in quel momento. Da lì è scattato il controllo e la possibilità di rinvenire un quantitativo di droga, di cocaina che è fra i più rilevanti rinvenuti a Ravenna. L'intuito ha permesso agli uomini della polizia di individuare l'uomo e poi l'operazione come è stata gestita? È stato necessario, attraverso dei mazzi di chiavi di cui lui non voleva giustificare la collocazione, è stato necessario per i poliziotti provare ad aprire diversi appartamenti dello stabile e per arrivare infine a quello dove era nascosto lo stupefacente. Il valore sul mercato? La cocaina rinvenuta? Calcoliamo che al dettaglio è intorno ai 300.000 euro. Oltre a lui è stata arrestata anche una complice, una donna moldava. Sì, una complice che non risulta essere la sua compagna, ma che probabilmente insieme a lui gestiva lo spaccio di questo stupefacente. Lo spaccio dello stupefacente riguardava il territorio Ravennate, si hanno indicazioni riguardo? Qual era l'area di azione? Questo sarà oggetto di approfondimento in sede di interrogatori da parte dell'autorità giudiziaria e quindi ci sarà una serie di accertamenti che saranno successivi a questo momento dell'operazione.